La società dello stucco che andava a chiedergli perdono, ma almeno, non aveva nemmeno veduto la perdita della patria per la quale era morto. Prima citazione. Seconda citazione. Londra, infatti, è come una prigione per i bambini, specialmente se non hanno una famiglia molto ricca. Ovviamente ci sono i negozi, i teatri, gli spettacoli di magia, di Maskline, Cooks e un sacco di altre cose, ma i tuoi non se lo possono permettere il teatro. E Londra poi non si può certo andare per negozi e fare compere e non ha nessuna di quelle simpatiche cose con cui i bambini possono giocare senza farsi male o rompere qualcosa, come ad esempio alberi, sabbia, acqua e boschi e quasi ogni cosa a Londra è poco adatta o ha la forma sbagliata. Sono tutte linee rette, strade dritte, spigoli. In campagna, invece, tutte le cose hanno forme irregolari. Gli alberi sono diversi l'uno dall'altro, come voi sapete bene, e di sicuro qualche persona noiosa vi avrà già spiegato che non esistono al mondo due fili di erba identici. Ma per la strada, dove l'erba non cresce e ogni cosa è uguale alle altre, ecco perché i bambini, tanti bambini che vivono in città sono così capricciosi, non capiscono che cosa sia che non va e tantomeno lo sanno i papà e le mamme, gli zii e i cugini, i tutori, i governanti, le bambinaie. Ma io lo so, e ora lo sapete anche voi. La prima citazione, ovviamente, sono le righe finali stupende della guerra di Via Pall, che esce nel 1907. Quest'altra citazione, meno nota, di un libro splendido, diversissimo ovviamente dai ragazzi della Via Pall, è Cinque bambini alla cosa, di una grande scrittrice inglese, Edith Nesbitt, un libro che non ha mai avuto molta fortuna in Italia, perché è legato alla grande stagione del realismo magico che in Italia è sempre stata vista con pedagogici sospetti e furori. Ed è la storia di Cinque bambini che scoprono la cosa, cioè questo essere che è in grado di esaudire i loro desideri, ma ovviamente ogni volta che esaudisce un desiderio si creano, come dire, delle delusioni e dei problemi. Il libro venne stampato qualche anno fa, non vi racconto tutta la storia editoriale, perché sarebbe molto interessante, ma venne pubblicato un po' di anni fa, e dall'edizione c'era una volta, con le tavole di Adriano Gon, adesso ho visto che è stato ripubblicato dal Rizzoli, nella collana, quella che era un tempo la collana dei delfini. Ecco, però, vedete, sono due libri completamente diversi, che escono negli stessi anni e hanno un tratto comune. Cioè, direi addirittura che in questi casi si mostra come la migliore letteratura per l'infanzia sia in grado di registrare e talora di anticipare la realtà, diventando un laboratorio e uno strumento di riflessione, perché il dato comune che questi due brani hanno è che in quegli anni la città sempre più diventa nemica, e qui mi rifaccio a quello che diceva Anselmo, nemica irriducibile dell'infanzia, perché man mano toglie all'infanzia stessa lo spazio della libertà, dei giochi, della crescita e del confronto. Edith Nesbitt è stata una grande scrittrice non solo per l'infanzia, 1858-1924, tanto per dare un po' di date, legata al movimento della Fabian Society, quella che poi porterà alla nascita del partito laburista in Inghilterra, amica di intellettuali come Chesterton, come Bernard Shaw, come Walsh, come Wilde, come William Morris, è uscito di recente un romanzo di una grande scrittrice inglese, la Bayat, che si intitola Il libro dei bambini, pubblicato da Inaudi, un libro corposo ma affascinante, dove la protagonista, che è Olive Wellwood, è abbastanza facile riconoscere il personaggio della Nesbitt. E vi leggo solo due righe, tanto per notare le coincidenze. A un certo punto la Bayat scrive, e ripeto, siamo anche negli anni in cui in Inghilterra nasce la moderna letteratura e illustrazione per l'infanzia, no? Cioè, soprattutto nasce la moderna illustrazione per l'infanzia. Sempre in Inghilterra, un po' di anni prima, era nata la moderna letteratura per l'infanzia. Alice nel Paese delle Meraviglie, i bambini acquatici di Kingsley, no? Tutto nasce lì. Comunque, queste righe mi sembrano indicative. I Fabiani, cioè i membri della Fabian Society, e gli scienziati sociali, gli scrittori e gli insegnanti, videro in modo diverso dalle generazioni precedenti che i bambini erano persone con identità, desideri e intelligenze. Videro che non erano né bambole, né giocattoli, né adulti in miniatura. Videro, in molti casi, che i bambini avevano bisogno di libertà, avevano bisogno non solo di imparare e di essere buoni, ma anche di giocare e di essere selvaggi. Ecco, qualche appunto per l'Italia. Prima Anselmo citava questo grande libro che è Pinocchio. E allora faccio una brevissima digressione per dire che quando Pinocchio e i suoi compagni di scuola si lanciano i libri e con grande autoironia Colodi ci mette anche un libro scolastico scritto da lui, che era il Minuzzolo, e questi libri finiscono in mare, i pesci accorrono per mangiarli. E quando li assaggiano dicono, ma puah, noi siamo abituati a ben cose migliori. E dunque questa è una bellissima riflessione sull'editoria scolastica, che mi sembra anche molto attuale, se la vogliamo dire tutta. Ma comunque cosa accade in Italia? Beh, ci sono alcuni test interessanti che escono in quegli anni e trattano proprio precipuamente il tema delle bande. Uno è scritto, è illustrato, intanto vado avanti con le immagini, poi se abbiamo tempo magari nel giro successivo, queste sono tutte edizioni anni 50 della Via Pal. Prima era Violetto, adesso c'è Ugo Fontana, e poi arriva il grande Libico Maraia. Ecco, questa è la banda del Ciuffo Rosso, scritto e illustrato da Filiberto Scarpelli. Siamo nell'ambito dunque giornalino della Domenica, Vamba. Questa esperienza che segna una svolta, sia pur ovviamente a livelli altoborghesi, del modo di intendere non solo i giornali periodici per l'infanzia, ma, come dire, il rapporto con l'infanzia. Perché Vamba, parallelamente alla pubblicazione di questa rivista, crea in molte città italiane i cosiddetti grilli, che sono dei gruppi di bambini e bambine, e ragazzini e ragazzine, i quali periodicamente fanno delle attività, si ritrovano, giocano insieme, creano una struttura che sopravviverà addirittura di molti decenni, alla fine del giornalino. Tant'è che ancora negli anni 50 e 60, ormai diventati anziani, questi vecchi membri privilegiati, no? Perché appartenevano pur sempre, come dicevo prima, alle classi alte, continueranno a vedersi annualmente, in qualche città italiana, e a fare i loro incontri. E la banda del ciuffo rosso, da questo punto di vista, si svolge, ovviamente, nella campagna toscana, ed è una bellissima storia di guerre per bande. Che cosa succede poi? Succede che il libro viene, esce nel 1909, e dunque, vedete, gli anni sono sempre quelli, nel 1928 viene ristampato con un titolo diverso, Guerra, guerra. E l'autore, che morirà accoltellato di lì a pochi anni, era un genio, ma aveva una vita molto, come dire, irregolare, ed era poi il padre del famoso Scarpelli, Age e Scarpelli, no? famoso sceneggiatore cinematografico dei film di Monicelli e quant'altro, lo ripubblica nel 1928 e sente il bisogno, ai noi, di fare una introduzione che dedica a Sua Eccellenza Francesco Giunta e ricorda altri gerarchi fascisti che avevano fatto parte del movimento dei grilli. Dino Grandi, famoso perché è legato poi al 25 luglio, Lando Ferretti e via discorrendo. Anche Edda Mussolini, prima di diventare Ciano, no? Fece parte del movimento dei grilli. E lui scrive, L'esercito del giornalino rappresentò in miniatura, nell'Italia di vent'anni fa, quello che nell'Italia di oggi rappresenta in grande il ballilismo. Il mio libro, Vent'anni or sono, poteva apparire una stramberia rivoluzionaria, una manifestazione di riverenza verso i canoni dell'educazione tradizionalistica, ma oggi, grazie al cielo, l'organizzazione dell'infanzia italiana, secondo un concetto umano e profondamente ragionevole che mira a sviluppare e non a contenere le capacità fisiche e spirituali dei fanciulli, è un fatto compiuto e legalizzato. Io posso quindi considerare il mio libro di sana esuberanza infantile, non come sorpassato, ma raggiunto dei tempi e avente diritto alla cittadinanza di oggi. Nel 1926 il regime, o meglio il fascismo, trasformato si ormai pienamente in regime, crea l'opera nazionale balila. Nel 1926 esce anche un libro di grandi fortune editoriali, dove di fascismo non se ne parla, ma forse per me è il libro più fascista che ci sia stato, che è Il piccolo alpino di Salvatore Gotta. ma lasciamo perdere. Ecco il percorso a cui già Anselmo accennava. Non ci siamo messi d'accordo, voglio sottolinearlo. È proprio questo. Cioè ad un certo punto il fascismo scioglie tutte le associazioni a partire dagli scout e qui poi Martina parlerà di un libro molto bello apparso l'anno scorso che riprende questo tema, ma allo stesso tempo come dire, l'infanzia, come dice anche Scarpelli, rivendicando, questo viene in qualche misura irrigidimentata e soprattutto si creano le condizioni perché l'infanzia venga sempre di più in qualche misura militarizzata, cioè si preparano in qualche misura i modi e i tempi per poi gettare nelle guerre quando ci saranno l'infanzia. Il tema che io ho affrontato più volte della guerra, della rappresentazione della guerra nei libri per l'infanzia, in effetti poi non solo è un grande tema, ma c'è una metafora che io uso sempre. Per molte generazioni paradossalmente si inverso agli anni 60 finché non arrivò nel bene e nel male, io appartengo a questa generazione dunque per me nel bene il 68, no? L'infanzia veniva sempre rappresentata come diciamo è come quando l'allenatore la squadra perde no? O vince e deve difendere il risultato e allora cosa fa? Fa riscaldare a bordo campo le riserve no? Si tolgono la tuta e cominciano a coricchiare avanti indietro ecco l'infanzia per molte generazioni è stata rappresentata così come qualcuno che si riscalda a bordo campo pronto a scendere appunto no? Per andare a farsi massacrare in qualche guerra più o meno lontana più o meno incomprensibile ma appunto torniamo alla guerra per bande perché c'è un altro bel libro che è questo che è Guerre senza sangue di Michele Saponaro che viene pubblicato nel 1923 anche questo illustrato con questi saporosi bianchi e neri da scarpelli e qui la cosa interessante perché io ho assistito solo in parte ieri all'incontro di Bianca ma penso che ne avrà parlato perché è una cosa che lei ha messo in quel suo bellissimo libro che è la storia di come lei diventa scrittrice per l'infanzia e poi ne parla anche in Ascolta il mio cuore cioè il fatto che gli studenti i bambini e i ragazzini come dire dalla scuola tragano anche le occasioni per no? culturali diciamo così no? per giocare no? alla guerra per bande perché qui ad esempio questi due gruppi che si scontrano anche senza esclusioni di colpi come vedete mimano di volta in volta le storie di Mario e Silla di Cesare e Pompeo del cavallo di Troia delle guerre puniche di quelle barbariche o addirittura alla battaglia di Lepanto no? ora è probabile che magari Saponaro qualcosa come dire abbia aggiunto di suo ma è vero che questo era il clima cioè la scuola no? ti interrompo ti interrompo un'istanza Walter per dirti che in questa ricerca nei giornali dell'ottocento una delle cose che mi ha colpito è che gli unici che difendevano i ragazzi delle bande che si scontravano a Sassaiole erano proprio i giornali conservatori che dicevano ma così le generazioni si temprano per le future guerre dell'Italia che sta nascendo quindi e questo si lega esatto dunque ed era la contraddizione non in seno al popolo come diceva quello ma in seno alle classi dirigenti perché no? ed era vero questo questo elemento comunque il libro poi viene riproposto più tardi da Mondadori con queste stupende illustrazioni di di Enrico Mauro Pinocchi con questa bellissima illustrazione di gusto quasi cioè di gusto deco quasi giapponista per certi versi ma c'è sono due cose tanto vi leggo un pezzetto il coperchio della botte non era stato rimesso a posto così bene che non lasciasse una fessura da una parte e allora spiamo per quella fessura e vedemmo Vittorino e la fanciulla bionda la figlia forse del guardiano del magazzino seduti l'uno al fianco dell'altra sulla soglia della legnaia e si tenevano per mano e si guardavano negli occhi sorridendo Alberto aveva una brutta faccia così per la prima volta un'immagine di donna entrò nella nostra vita e doveva poi restarci l'anno seguente per le vacanze estive i guerrieri romani e barbarici non si ritrovarono più insieme nel giardino d'italia l'infanzia era finita ecco il l'altro riferimento si parlava prima la guerra di troia beh lì c'è perché Bianca Pizzorno poi no e le sue amiche mimano questo perché lì c'è stato un grande romanzo un long seller che è stato ristampato fino a pochi anni fa che era le storie della storia del mondo no di una famosa e brava scrittrice che era Laura Orvieto e questo è un libro dove si raccontano ai bambini no e ai ragazzini le storie appunto della guerra di troia ed è un libro che ha uno straordinario successo nel 1938 Laura Orvieto ebrea con le leggi razziali i libri suoi di tutti gli altri autori vengono ovviamente non solo ritirati dai cataloghi ma ritirati anche dalle biblioteche poi alla Laura Orvieto fascistissima gli andò anche bene perché guarda caso nessuno la cercò si si nascose si rifugiò in una villa una villa non in uno scantinato toscana e guarda caso no né i nazisti né le squadracce fasciste durante le persecuzioni e gli arresti e le deportazioni in Germania nessuno l'andò a cercare ma questa era solo una parentesi e a proposito dell'Italia concludo con un grande nome della letteratura Tucur che secondo me è stato anche un grande scrittore per ragazzi e non solo per adulti che è Luigi Capuana siciliano e c'è un testo poco noto lui nasce nel 39 a Mineo provincia di Catania e racconta dei moti del 48 in questo testo autobiografico e allora parla il Tede un cantato in cattedrale le grida contro i borboni a favore di Pio IX e la Costituzione e poi per lui che è un ragazzino anzi un bambino ancora la breve parentesi della rivoluzione diventa una gioiosa occasione di guerra per gioco con tre bande che corrispondevano a i tre quartieri di Mineo e scrive ci eravamo costruiti fucili cartucce ripiene di gesso ben calcato giberne di cartone sciabole di legno per fabbricare un fucile si sceglieva una canna grossa e si tagliava dalla lunghezza di un metro rasente a un nodo nient'altro nel momento della battaglia vi si introduceva la cartuccia che andava giù per il proprio peso e che lanciata con tutte e due le mani era capace di produrre contusioni e ferite e più avanti le fazioni diventarono e non di rado zuffe pericolose quando vi si mescolavano giovinastri sfaccendati operai e contadini che prendevano sul serio l'onore del rispettivo quartiere alcuni ragazzi si erano armati di lunghi coltelli a molla e due o tre mafiosi che la rivoluzione aveva liberati dalla galera davano di nascosto lezioni di scherma col coltello e col bastone a parecchi dei più svelti sui 13 e 14 anni e lezioni di gergo carcerario apprese più lestamente che non quelle di italiano e di latino ecco questa guerra per bande di Capuana certamente riecheggia quella di Molnar e di Pergò con un privilegio tutto italiano che è quello dei due o tre mafiosi e che continuiamo come ben sappiamo ad avere e chiudo allora con la guerra dei bottoni che è del 1912 di Pergò grande scrittore francese autore a parte qualche racconto di un unico libro perché Pergò giovanissimo andrà a morire nel fango delle trincee francesi anzi la morte è poi ancora diversa se ne parlava adesso con Anselmo comunque come si dicono in Francia come si trova nei cimiteri francesi tu è all'ennemi e in Italia questo splendido libro è sempre stato visto anche qui con sospetti pedagogici perché ci sono le parolacce e soprattutto secondo me quello che ha scandalizzato gli adulti i pedagogisti che sono una razza pericolosissima era non tanto la parolaccia quanto il fatto che questi bambini esibissero la libertà e qualche volta la nudità dei corpi per cui pensate un libro così la prima volta che viene tradotto in italiano arriva nel 1929 non in una collana di libri per bambini ma in una collana di libri per adulti che è questa splendida collana dell'editore Formigini che erano i classici del ridere una splendida collana e qui è illustrato da Gustavino ecco qui c'è la copertina e anche qui volendo ci sono delle coincidenze Formigini editore modenese trasferisce la casa editrice a Genova però poi la trasferisce a Roma perché spende meno nel 1938 anche lui è ebreo appena escono le leggi razziali lui capisce tutto prende il treno da Roma arriva nella sua città natale sale sulla ghirlandina che è la torre di moden e si butta giù aveva capito tutto bene la guerra dei bottoni bisogna aspettare a lungo che escano delle edizioni decenti addirittura negli anni 70 80 la Fabri fa un'edizione scolastica per la famigerate narrative di adozione delle scuole medie che hanno come dire sinistramente allontanato dai piaceri del libro della lettura almeno uno o due generazioni di alunni ma ecco la cosa vergognosa è che questa edizione è tagliata è censurata cioè tutto quello dove si parla di nudità di corpi e di appunto di parolacce viene tolto ma andiamo avanti la storia è nota è la storia di due villaggi agricoli Velrans e Longchamp vicini ma irriducibilmente nemici non solo perché era normale la guerra per bande anche tra quartieri vicinissimi ma perché uno è conservatore e vandeano e l'altro è socialista e repubblicano e dunque questo vedete torniamo ad una costante se vogliamo della storia francese che per certi versi si ripete ancora oggi allora che cosa succede i bambini e i ragazzini si affrontano e a un certo punto di fronte all'ennesima battaglia gli adulti che nel romanzo fanno una figura molto magra decidono di intervenire e punire dimenticandosi che loro stessi e i loro padri e i loro nonni avevano fatto le stesse guerre per bande e allora ovviamente arriva la punizione arrivano le sculacciate i castighi e allora concludo con proprio con le ultime battute del libro in una traduzione che è quella che vi dicevo del 29 di Antonio Radames Ferrarin il quale fa un'operazione molto curiosa ma anche è saporosa lui per tradurla l'ambienta in Lombardia per cui tutto diventa Lombardo usando e lo dice lui stesso il curioso gergo che parlano i Lombardi incolti quando vogliono parlare italiano un Lombardo italianizzato o un Italiano lombardizzato questo ci porta un po' all'oggi ma è solo accenno e aggiungo prima di leggere perché c'è una parola che ho dovuto poi cercare su un vecchio vocabolario perché altrimenti si rischiava di non capire che la cremonese è una focaccina dolce gonfia e soffice di fior di farina burro zafferano zucchero e uova e leggo mi domando io e tanto ancora se ci facciamo un bacio alle nostre morose quando ci regaliamo una cremonese o un'arancia e per un boia di traditore e ladro che ci diamo un po' di botte fanno un baccano del diavolo come se fosse morto un bue ma sarà mica questo